Cheapers L'albero di Norton Eh, sì Guardalo giù Papà, che cos'è? Andiamo al supermercato Prima che sparisca tutto Guarda Tratto dal romanzo di Stephen King Dopo Independence Day È stata una tempesta terribile E la guerra dei mondi Oh mio Dio C'è qualcosa nella nebbia Chiudete la porta Chiudete la porta È impossibile È la fine del mondo Ora Sono qui Ho sentito qualcosa Sopravviverete a questo Noi lo siamo Non potete andare Non c'è niente Niente nella nebbia E se ti sbagliassi? Allora sarei io l'imbecile Non c'è niente Una mamma di me No 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 The Mist Possibile Al cinema